Buonasera, bentrovati al TG Territori e Cultura. Mantua ha una nuova stazione meteorologica. Gli istituti Santa Paola con il progetto Sky Meteo Network hanno dato vita a un nuovo servizio per i cittadini, raggiungibile anche da uno smartphone. Una nuova stazione meteorologica per Mantua. Grazie agli istituti Santa Paola e al progetto Sky Meteo Network i cittadini potranno usufruire di un nuovo servizio legato direttamente al centro meteo lombardo, ovvero la più grande rete di rilevazione dati meteorologici in tempo reale su scala regionale. La stazione consentirà la creazione di un archivio dati che in estrema sintesi porterà a una possibile comprensione delle dinamiche climatiche della zona cittadina. Fondamentale, oltre a professori e professionisti del settore, l'apporto degli studenti del quarto anno del corso in tecnico elettrico che hanno beneficiato di una Learning Week finanziata dalla Comunità Europea e dalla Regione Lombardia. La città di Mantua per la prima volta avrà una stazione dove tutti i cittadini, questa è la grande importanza, possono accedere in tempo reale ai dati meteorologici della città e quindi anche vedere l'evoluzione dei venti, delle temperature, dell'umidità. Gli allievi hanno realizzato interamente tutto l'impianto, hanno messo in rete il sistema e hanno avuto la possibilità di lavorare insieme ai tecnici del centro metro lombardo che giornalmente fanno anche previsioni meteorologiche. Il servizio sarà raggiungibile da qualsiasi dispositivo collegato a internet, fisso o mobile. Ho iniziato con quello teorico dove mi siamo mandati in laboratorio e attraverso il computer siamo andati nel sito proprio dello SkyMeteo Network dove in tempo reale, dove c'era massimo ritardo di 5 minuti, ti faceva vedere come il tempo che analizzava. Ci hanno anche fatto vedere i segni che dovevamo imparare come ad esempio le direzioni del vento, le temperature, anche la pressione. È possibile seguire l'andamento tramite il sito del centro Meteo Lombardo o dal link sulla pagina principale degli istituti Santa Paola.